musica wey bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo specialissimo video io sono xyuder e ragazzi un paio di ore fa abbiamo visto la notifica del video news dove parlavo appunto dell'astro world tour il concerto di travis scott che arriverà a fine mese su fortnite beh ragazzi se non lo sapete ci spostiamo direttamente in game e guardate che cosa sta succedendo siamo ovviamente nella porzione di mappa dove il concerto avrà luogo e arrivano voci che il palco sta iniziando ad essere montato il vero problema è che dovete semplicemente avvicinarvi all'isola quella proprio di fronte al molo di sabbie sudate e guardate un po' ragazzi lavori in corso tolga il ping quello giallo tolga il ping grazie monkey lavori in corso ragazzi prot con tanto di cassa attenzione sia acustica che di munizioni insomma ragazzi tanta roba ci spostiamo un attimo di qua e ci sono addirittura le transenne che andranno a formare il palco di travis una roba veramente incredibile questo ci fa capire quanto possa essere grande il l'evento in sé dovrebbe essere una piattaforma fluttuante questo è quello che è stato detto staremo ovviamente vedere insomma ragazzi un'altra news per voi fatta in tempo reale vi ringrazio per aver guardato questo video mi raccomando iscrivetevi al canale andate a dare un'occhiata anche voi a quest'isola e a me mi trovate oggi in live su twitch fino alle 13 e poi dopo alle 14 ciao ciao